Anche una cosa che secondo me è prioritaria è quello di trovare nuovi filoni di attrazione turistica che sono adesso limitati sostanzialmente all'opera lirica e a Giulietta Romeo. La recettività belghera poi ha avuto un tracollo negli ultimi due anni a seguito della gestione pandemica a mio avviso folle perché in paesi come la Svezia dove non hanno avuto queste chiusure così lockdown continui, vaccinazioni obbligatorie, mascherine per tutti, di vieto di andare in ristoranti, salire sulle autos per tanti mesi, un anno, due anni e stanno meglio di noi, hanno avuto meno morti di noi oltretutto. Allora l'Italia sta, non dico fallendo, ma è in grave crisi economica, ha circa 3.000 miliardi di debito, lo spread è schizzato a volte a 600 punti, adesso è stabile sopra i 200 punti, ma siccome c'è Draghi non succede niente, nessuno protesta, però prima o poi i debiti dovremmo pagarli. Ci sono già, credo, un 30% di aziende veronesi che hanno chiuso, negozi, pubblici esercizi. Nella bassa veronese, non vorrei essere drammatico, ma ho saputo da gente che lavora nei mobilifici che circa il 70% del volume d'affari è crollato e molte aziende hanno chiuse. Quindi l'emergenza non è tanto la cultura nell'immediato, certo la cultura fa ripartire il turismo, bisogna trovare altri filoni, però l'emergenza è anche quella di ripartire con un'economia che si riprenda a lavorare senza vincoli perché gli attuali vincoli hanno ucciso la produzione. Si aggiunge poi le sanzioni alla Russia che hanno dato un'ulteriore bastonata a tutte le nostre esportazioni. Questa è la vera emergenza, alzare la voce, gridare con voce forte anche al governo, ma anche alla regione, anche in comune, che su certe cose non dobbiamo porre dei vincoli ulteriori. Aggiungo questo, che i nostri bambini nelle scuole stanno soffrendo molto e loro sono il futuro della nostra città, perché senza di loro non ci saranno forze lavoro per pagare nemmeno le pensioni. Senza di loro non ci saranno competenze, non ci saranno punte di eccellenza, nuovi progetti e quindi la tutela dei bambini serve anche per il turismo, serve anche per la cultura, perché senza di loro non andremo da nessuna parte. Il mio appello è anche questo, perché sostanzialmente nel nostro progetto elettorale c'è intanto scrollarsi da tutti questi lacci e l'occioli che ci sono stati messi dall'alto. Come sindaco si può benissimo fare qualcosa, perché il sindaco è il tutore della salute pubblica. Lui se vede che un bambino a scuola deve portare la mascherina per sei ore di fila e questo gli fa male alla salute, potrebbe anche dire basta mascherine nelle scuole. Voglio vedere quale magistrato potrebbe inquisirlo. Allora, andiamo verso... No, gli applausi no, perché altrimenti dobbiamo fare l'applausometro. Verso l'ultimo.